Non è una banda di professionisti quella che ha agito nelle contrade di Ariano Erpino lunedì notte, ma potrebbero essere solo malviventi di passaggio sul territorio, con ogni probabilità provenienti dalla vicina Puglia. Sono queste le indiscrezioni che emergono alla luce delle prime indagini di carabiniere e polizia. Nella zona di San Tommaso e Brecceto sono quattro i furti denunciati, tutti compiuti da ladri invisibili con la tecnica del mordi e fuggi. Bottino complessivo circa 20.000 euro. Ma tutto è cominciato sabato scorso, quando i ladri hanno tentato di mettere a segno un primo furto a balleluogo, all'interno del centro silenziosi operai della Croce. Sono stati messi in fuga dalla madre superiore. L'attività di controllo è stata ulteriormente intensificata a tutto il territorio, con l'utilizzo di più uomini e mezzi a disposizione. In tanti hanno notato nella notte luci di crociere lampeggianti accesi. Un metodo efficace per scoraggiare malintenzionati e soprattutto per restituire tranquillità alle popolazioni. Ma intanto è tregua. Non risultano al momento nuovi furti da nessun versante della città. Segnalazioni di auto sospette sono giunte ai carabinieri, che sperano di poter raccontare sempre di più sulla collaborazione dei cittadini. Bisogna innanzitutto partire da una maggiore accortezza e difesa personale. A tutto questo va aggiunta indubbiamente una maggiore vigilanza su un territorio che comunque è considerato tra i più estesi in Italia. Ci sono zone rurali che portano facilmente verso la terra di Capitanata, seguendo la statale 90 delle Puglia al Beneventano lungo la 90 bis sul versante Fortore Miscano. È da qui che si avvertono i timori maggiori. Le indagini proseguono a tutto campo e senza sosta contro questo fenomeno che continua a generare allarme nelle case, soprattutto nelle zone più isolate. Non siamo ancora sui livelli di un allarme sociale, ma nonostante ciò occorre operare in sinergia, stroncando sul nascere ogni tentativo di infiltrazione della criminalità su questi due versanti.